La pandemia ha depotenziato da un punto di vista del personale la sanità italiana e il territorio terramano non fa eccezione. Noi ringraziando Dio stiamo reggendo, ma reggere quattro ospedali, quattro chirurgie, quattro anestesie, quindi quattro pronto soccorso, siamo un po' in sofferenza. Lei ha detto che fate i concorsi ma per alcuni settori addirittura non partecipa nessuno. Non c'è neanche un partecipante, ad esempio medicina, l'ultima situazione si verifica con la medicina. Ieri la dottoressa Di Marzio che è responsabile del personale mi ha detto che non ha partecipato nessun concorrente. Vanno riviste anche le condizioni economiche, a mio giudizio, cioè uno che sta al pronto soccorso non può prendere come uno che sta in una corsia oppure in attività molto più leggere, e molto più, come possiamo dire, non è che il medico non ha una responsabilità nell'attività che compie, ma un conto è uno che sta in pronto soccorso, che deve dare una risposta immediata al paziente e invece chi nel momento in cui è in un reparto ha la possibilità di studiarlo, il caso, di approfondirlo. Quindi, però ecco, quello che emergeva l'altro giorno, sono stato a Roma, nella fondazione Gimba, presentato il rapporto con l'estate Ramana, il post pandemia per i medici al servizio sanitario ci sono tanti che sono andati in pensione, tanti che sono licenziati e tanti che stanno andando al privato. Quali sono le figure professionali che mancano all'asile di Terno? Noi mancano gli anestesisti, mancano cardiologi, mancano i medici del pronto soccorso, dell'emergenza urgente, della medicina. Se io trovassi 10 anestesisti li prenderei domani, oppure se trovassi 15 medici del pronto soccorso li prenderei domani. Non ho problemi in assumermi queste responsabilità.